Facendo il medico e vedendo tanti pazienti oggi mi sono reso conto che soprattutto per quanto riguarda le malattie ischemiche del cuore, cioè l'infarto, è difficile pensare che ci sia un miglioramento, che venga sviluppato un nuovo stent, un nuovo bypass. Quindi la terapia oggi è al massimo della sua possibilità. E infatti quando un paziente con infarto si ricovera in ospedale ha il 96% di probabilità di uscirne vivo. Però quando poi si vedono i dati epidemiologici, cioè i dati di mortalità, si vede come l'infarto nell'uomo e purtroppo anche nella donna, che come sappiamo ha più paura del cancro al seno piuttosto che dell'infarto, nell'uomo e nella donna la causa numero uno di morte sono le malattie ischemiche del cuore. Quindi come si conciliano queste due informazioni? Cioè da una parte abbiamo i pazienti che si ricoverano con l'infarto e vengono guariti. E' un'altra osservazione che invece l'infarto rimane la causa numero uno di morte nell'uomo e nella donna. Questo si capisce quando si vedono i dati epidemiologici che ci dicono che purtroppo la maggioranza dei pazienti con infarto muore prima di giungere in ospedale. Ovviamente noi come professori universitari siamo più, come dire, addestrati ad un'informazione scientifica, ad avere, a dare, a parlare con i tecnici, con un linguaggio tecnico. E questa è proprio la novità di questo libro, secondo me, dal mio punto di vista, è quello della narrazione, del racconto per far scoprire come la malattia non è un evento eccezionale. Ci capiterà purtroppo a molti o a tutti. E quindi la malattia come fisiologia deve essere, come una patologia che potrebbe capitare anche a chi sta bene. Perché chi sta bene non ha la percezione del rischio e quindi non è un soggetto, un paziente medicalizzato. E qui l'importanza, se vogliamo allungare la vita, oggi, sulle malattie ischemiche del cuore, non è quella di inventare uno stento nuovo. Siamo al massimo, siamo al, diciamo, la terapia è una terapia ormai massimale, tanto è che, come abbiamo detto, se il paziente ha un infarto e va in ospedale, se la cava con una buona percentuale. E quindi dobbiamo investire sulla popolazione, sui cittadini.